Martedì 31 maggio, visitazione della Beata Vergine Maria. È il 152esimo giorno dall'inizio dell'anno e mancano 214 alla fine. Il sole sorge alle 5 e 26, tramonta le 20 e 51. La luna si leva alle 2 e 46, tramonta le 15 e 06. In onore del Duca di Mantova viene effettuata una splendida regata con ben 16 peote. Si ricorda che la peota, barca tipicamente fluviale e condotta da 4, 6 o 8 vogatori, durante le regate veniva splendidamente addobbata. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvolosità a variabili e rasserenamenti, con leggera prevalenza delle zone di sereno fino al mattino e dalle nuvole del pomeriggio. Precipitazioni. Fino al mattino probabilità bassa in prevalenza assenti, localmente brevi piovaschi o rovesci. Dal pomeriggio probabilità medio-bassa in pianura e medio-alta in montagna. Ci saranno rovesci e temporali diffusi, discontinui sulla pianura e frequenti sui monti. Temperature simili a ieri, ad eccezione dei valori diurni in montagna che aumenteranno.